Nel mese di gennaio, purtroppo dopo un periodo di scarsi risultati e stanchezza dal punto di vista fisico e anche mentale, ho fatto delle analisi e ho riscontrato che avevo contratto a toxoplasmosi. Dopo questa diagnosi ho affrontato un periodo di tre settimane fermo in cui non ho potuto partecipare ai campionati europei e altre gare di Coppa del Mondo che erano in programma. La stagione sembrava finita perché i problemi fisici continuavano ad esserci, ma dopo tre settimane in attività sono riuscito a riprendere una buona condizione fisica e grazie alla fiducia dello staff tecnico della nazionale e l'ok dei medici federali ho potuto partecipare alle ultime gare di book up in Canada, alle finali di questa competizione internazionale. Qua ho riscontrato di nuove situazioni positive, il che significava che il mio fisico si era ripreso da questo virus che mi aveva colpito. Sono riuscito a fare un ottimo finale di stagione nel mese di marzo, riuscendo a impormi addirittura in Coppa Italia e facendo un buon quinto posto ai campionati italiani assoluti. Diciamo che sono molto contento di aver ripreso pienamente le forze e di aver dimostrato il mio valore, soprattutto a livello atletico. Sono felice anche da questa fiducia che mi è stata data dallo staff della nazionale. Inoltre il sostegno in questo periodo molto difficile è avvenuto dal gruppo sportivo delle Fiamme Oro di cui faccio parte e dai miei sponsor che mi sostengono in questa mia carriera. Adesso dopo questo periodo di gare sto affrontando un periodo di scarico di due settimane in cui mi alleno in maniera abbastanza blanda. Per fortuna qua nel Cunese abbiamo ancora tanta neve che mi permette di fare ottimi allenamenti e riuscire a godere di queste bellissime giornate. Dopo due settimane di riposo riuscirò a riprendere gli allenamenti verso il mezzo di maggio per poi andare ad affrontare la prossima stagione agonistica. La prossima stagione agonistica che ha come appuntamenti principali i campionati del mondo in Norvegia che si terranno il prossimo febbraio. Grazie a tutti.